Partendo un attimo Non stai fermo, stai fermo, è tutto live È tutto là, è tutto là Comprate adesso dal media Sergio No, non lo facciamo vedere, non farlo vedere Non lo facciamo vedere, perché non? Vai avanti, vai avanti Cuffi e beats Togli sto flash, Ciro No, perché magari uno non lo capisce Non si vede, non cazzo, poi Si vede? Come non si vede? È poco, vedi, così Si, 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 si vede bene Se contro l'ufe, taglia, taglia Così Si vede? Come si apre, però l'unica cosa che io li devo utilizzare è per il pc Ma qua c'è scritto ipad e iphone Quindi sono un po' fottuto Eh, tu prova Io provo, al massimo l'hai ripetuto Ti grazie Sbusta, sbusta Non si sente bene l'audio Va bene ASMR Aperte il pane e beve bene Perché la cosa qua La cosa qua Devi essere invisibile Questa parte Tanto non si vede Non si vede Romina Si vede? No, non si vede Romina No, Romina non si vede Ho capito Ma la voce si sente Devi essere invisibile, cazzo Cazzo La bescianella Allora, vedete com' esce bene Basta di qua per fare la cosa Qua tagli No, serve un plush Qua serve un plush Change la festa di solito Eh, la cuffiettina Ma quanto piccolo Da sesso Qua c'è Come usare le puff Ma questo E' sacchettino Un sacchettino da pianto Ci mette la botanella La borsa pratica da viaggio No, vediamo Sperando che hanno a rubilare il jack Sì, hanno il jack Proviamo Proviamo Provare solo tu Quindi adesso provo Il cappello Fai vedere con togli un cappello? Vuoi vedere sul cellulare se funziona? Ma quanto piccole Sono piccolissime Vabbè, sono buone Aspetta che mi giro dall'altra parte Che è un po' meglio La inquadratura Taglia le parti Deppure che sto parlando adesso Non sento il cazzo Vai, attacca Attacca il telefono Non sento assolutamente Io sono più Meglio delle altre Ma senti se ti sto parlando adesso Senti se ti sto parlando adesso Mi stai sentendo Non capisco Cosa hai detto? Sei un coglione Hai sentito questo? Ma hai detto del coglione Eh, vedi che la sola senti Vedi che senti allora L'auricolare come Devo stare così L'auricolare come Eh no, devi stancare No, aspetta, aspetta Come fai a stare così? Come la metto? Srotolare Non stai fermo Stai fermo È tutto online È tutto online È tutto online È tutto online Perché è così? Si sentono solo da una parte Ah no, ok, ok Non sento più nulla Riprendi il telefono Appassa la voce Non sento più nulla È un video a caso Metti una canzone Sì, qui c'è un fantoce Capito? Il video di fantoce ho messo Ti metto il mio video La mia intro Eh, ma comunque adesso Subito Eh, ma è massimo Sì Eh, forse no Ok Se esplodono Non farle gare per te Perché Secondi Stai sentendo Si sente? La sento io però Ah, troppo Ah, troppo Vabbè, si sentono bello Ok, quindi si sentono Recessione ottima Boh, boh, funzionano anche È per Android? Per Ordo C'è scritto iPhone Invece Facciamo vedere le altre cose che hanno Che hanno? Che hanno? Vabbè Qua si vede bene No, Varkas Vedi sto video Qua c'è un libricino Della pizza Sì, dai, meno male Poi sotto non c'è nulla Non c'è nulla Sotto non è che qua sotto Non c'è nulla Boh, finì È finito Uno che spendeva 100 euro Però hai visto che non si sente nulla Eh sì, Tiso Tiso Quindi, se non mi distruggi Sì Il cosiddetto Boh, almeno male Romina Siamo salvi Salve salve Per io tu Perché quelle cuffie Ce l'hanno il microfono? In teoria sì Vabbè, quindi adesso faccio la live Su questo telefono qua Con le cuffie per vedere se l'audio va E quindi ci vediamo sulla live adesso